Andate a batterci le mani, a sentire le manchie le scuole, non arrivate i piedi nel carattacchi, i piedi di sopra il carrozzone. Senta qui, in piatta per le ore, vi riempiremo gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il colparatore di la capriola. Persino Berlusconi volle assistere a sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad applaudir. Il povero Silvietto piangia ancora e si dispera da quelli, che verso sera ce ne andà a poter già recitare. Lo spettacolo che andiamo a cominciare si compone di canzoni e di ragionamenti, così come recita il manifesto. Le parole verranno assemblate in ordine sparso, così da provocare sentimenti ed emozioni indimenticabili. Non sono da escludere con acchi di vomito e piazza. Eppure voi ragazze piangerete, se non restate qui fino alla fine, dove se state attenti imparerete a far l'amore come le velite. E' una venina scelerata, innamorata del centro campista, far fuori tre colleghi e una cugnata, per dare l'esclusiva alla vita. Anche Romano Prodi per vederci da vicino, venne apposta con il passino, prima fila ad affraudire. E Luca Cordero è partito da Torino, con il lappo sul motorino, per venire a vederci le città. E vi preghiamo, fateci un favore, spedete tutti i quarti cellulari, e ringraziamo l'essere tanto buoni, con quelle cose. Che ero con i coglioni!